Qualche luce sulla lunga storia dell'Università di Perugia può servire a cogliere il valore aggiunto di studiare in un Ateneo che avendo più di 700 anni ha il privilegio, come pochi altri Atenei in Italia e in Europa, di congiungere antichità e modernità, tradizione e innovazione, di vivere insomma di storia e di futuro. Apriamo insieme qualche pagina del suo passato. È il libero comune di Perugia alla fine del 200 a volere la sua università. La vuole perché il sapere e l'insegnamento superiore facciano ancora più risplendere una città che è già magnifica per la sua architettura, per il suo ordinamento politico e per le sue libertà civili. La nascita dell'Università di Perugia si collega infatti nello scenario di una comunità organizzata e coesa, fondata sulla partecipazione sociale e votata alla cura del bene comune. Era dunque naturale pensare all'Università come corona e decoro unico della città, come dice una delibera trecentesca del comune. Così come corona e decoro della città era il suo monumento simbolo, che vedete in questa foto, la splendida Fontana di Piazza, capolavoro della scultura medievale, inaugurata nel 1278 e che nel programma iconografico delle sue formelle marmoree, concentrava i miti fondativi e le virtù di un'intera comunità, esaltando anche le virtù del sapere, come dimostrano appunto le raffigurazioni delle sette arti liberali e della filosofia. La scelta del comune di fondare una università incontrò subito il favore dei due poteri universali. Nel 1308 il Papa riconobbe all'Università di Perugia il potere di conferire le lauree in ogni facoltà e con valore universale. Lo stesso fece l'imperatore Carlo IV nel 1355, sicché già nel primo secolo della sua storia, della sua esistenza, e grazie alla fama dei suoi maestri, Perugia toglie a Bologna, che era l'alma mater studiorum, alcuni dei suoi primati, come quello nel diritto. Qui vedete scene di maestri che decorano antichi manoscritti, ritratti nella fare lezione agli scolari. Questo invece è un magnifico basso rilievo tombale di un giurista dell'Università di Perugia, appunto raffigurato al centro di un'aula affollata di studenti. Ma dove era l'Università nella città? Nei primi due secoli di vita dell'Ateneo le sue aule erano disseminate in vari luoghi del centro ed erano le campane del Duomo e del Comune a scandire l'inizio e la fine delle lezioni. Sul finire del Quattrocento l'Università ebbe la sua degna sede nel bel palazzo del soprammuro, che vedete qui ritratto in un dipinto che si trova nel piano alto del Palazzo dei Priori, dove ha sede la soprintendenza. Il palazzo del soprammuro oggi, come sapete, è sede della Corte d'Appello di Perugia e lì l'Università rimase per tre secoli prima che Napoleone ne ordinasse il trasferimento nel grande ex convento settecentesco dei monaci olivetani, il Palazzo Murena, in cui hanno sede oggi il rettorato e gli uffici centrali dell'Ateneo. Il rettorato di Perugia è riconosciuto come uno dei più bei rettorati d'Italia, con dei decori architettonici, un inestimabile patrimonio di carte geografiche, un ambiente come vedete di assoluto pregio. La chiamano Università degli Studi, ma l'Università delle Origini nacque come Università degli Studenti e studente era il suo rettore che veniva eletto ogni anno a turno in rappresentanza di ogni nazione. E sì, perché l'Università degli Studenti era anche una Università delle Nazioni, una realtà cosmopolita affollata di giovani provenienti da ogni parte d'Italia e di Europa, raggruppati in base alla provenienza geografica. Le corporazioni studentesche arrivano a essere ben otto nel Cinquecento, quattro italiane e quattro d'oltre Alpe. Se si pensa che tra il 1579 e il 1721 furono più di duemila soltanto gli studenti tedeschi che si iscrissero nell'Università di Perugia, insieme ai francesi i tedeschi avevano sede, la loro sede nella chiesa di Santa Maria dei Servi in via Pinturicchio, dicevo se si pensa che solo i tedeschi in cent'anni furono più di duemila a iscriversi nel nostro Ateneo, si può ben dire che il programma Erasmus, che come sapete da trent'anni in qua promuove la circolazione degli studenti negli Atenei di tutta Europa, è solo una ripresa di quanto era già straordinariamente vivo nel Medioevo e nell'età moderna. Allora si parlava di peregrinazio di docenti e di studenti, oggi si chiama mobilità, ma la realtà rimane la stessa. E a Perugia, nella seconda metà del Trecento, sorse uno dei più antichi e monumentali collegi per studenti universitari, lo vedete ritratto in questa foto, la Sapienza Vecchia, quale altro migliore nome poteva avere se non Sapienza? E questo edificio ma ancora l'idea di una casa dello studente fece da modello addirittura il celebre collegio di Spagna di Bologna e ancora oggi questo edificio continua a essere adibito a uso di residenza studentesca. L'università però non era cosmopolita soltanto per la presenza di studenti di ogni parte d'Europa, era cosmopolita soprattutto perché la cultura e il sapere non conoscevano e non devono conoscere, né etnie, né lingue, né confini. Il pensiero ha le ali, niente può fermare il suo volo. Si legge nell'ultima sequenza di un bel film del 1997 sulla biografia di Averroé, l'arabo Averroé, filosofo, matematico, medico, arabo andaluso del XII secolo, riscopritore dell'opera di Aristotele. Averroé l'arabo era un antifondamentalista per eccellenza, un apostolo della tolleranza delle idee. I suoi libri che il califo ordinò di mandare al rogo furono per fortuna salvati, portati in occidente per essere tradotti in latino, essere studiati e diventare uno dei cardini del pensiero filosofico e scientifico. Ma veniamo ai tempi moderni. Dall'Ottocento l'Università di Perugia espande il suo perimetro scientifico e didattico, moltiplica le sue facoltà che non sono più soltanto giurisprudenza, medicina, vedete qui la sede nuova futuristica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, le arti e la teologia. No, le facoltà si aprono alle scienze di ogni campo, farmacia, agraria, veterinaria e poi nel secolo successivo economia, scienze politiche, lettere, lingue, fisica, matematica, ingegneria, fino agli attuali 16 dipartimenti che sono specchio di una comunità scientifica amplissima e dialogante. Per una università avere una lunga storia significa oggi possedere un grande patrimonio di scritture. gli archivi documentali e i fondi librari antichi dell'Università di Perugia sono inestimabili. Questa è la sala del dottorato, che è un piccolo scrigno librario che ha sede nel rettorato, dove sono custoditi nell'archivio storico dell'Università, pergamene e tesori documentali e librari. Per una università avere una lunga storia significa però anche oggi saperla documentare in modo nuovo e l'Università di Perugia è uno dei pochissimi atenei italiani a possedere una banca digitale, una banca dati che viene chiamata, che si chiama Onomasticon, dedicata alla storia dei suoi studenti e dei suoi docenti. Per una università avere una lunga storia significa arricchirsi delle intelligenze di moltissimi maestri. Non posso qui nemmeno tentare di aprire la galleria dei protagonisti di sette secoli di vita e di storia accademica. Visto però che ho fatto cenno ad averroè e al valore della tolleranza, mi piace almeno ricordare il momento in cui l'intelligenza ha saputo resistere al sacrificio delle libertà, perché il sacrificio delle libertà comporta sempre anche il brutale oscuramento del sapere. Era professore a Perugia nel 1931 uno storico del diritto, Edoardo Ruffini, che fu tra i pochissimi a rifiutarsi di giurare fedeltà al regime fascista, pagando questa scelta con l'allontanamento dall'insegnamento. Chi prese il suo posto fu uno studioso, Giuseppe Ermini, che come rettore dal dopoguerra per ben un trentennio ebbe il merito di rialzare le sorti dell'Ateneo Perugino, ricostruendolo, rilanciandolo e ampliando notevolmente le sue strutture, istituendo nuove facoltà, costruendo nuove sedi, fra cui l'imponente Aula Magna che vedete in queste foto, acquistando e restaurando palazzi storici, come Palazzo Manzoni dove assiede la facoltà di lettere, costruendo numerose case dello studente per corrispondere alla nuova domanda dell'Università di Massa. In questa foto che vi mostro, ammirate, la residenza Itaca, in cui c'è anche l'impronta del nostro attuale rettore Maurizio Liviero, che l'ha fatta completamente rinnovare quando era a capo dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria. Una politica lungimirante, quella di Ermini, se si pensa che nei primi anni del 2000 l'Università di Perugia ha superato i 35.000 iscritti, un numero vertiginoso per una città di nemmeno media grandezza. Anche oggi l'Ateneo di Perugia prosegue la sua storia, riuscendo a superare con lo stesso spirito comunitario delle origini anche l'ostacolo della nuova epidemia. Non ci deve meravigliare che questa invenzione del Medioevo sia ancora piena di futuro. Buona salute e buono studio a tutti.